Entrando nel vivo delle analisi di Engels, abbiamo visto come dal primo tipo di famiglia, cioè la famiglia per consanguinità, si sia aggiunti alla famiglia Punalua e abbiamo anche visto che la Gens si sviluppa a partire da questo tipo di famiglia Punalua, il cui sistema di parentela troviamo presso gli irochesi, cioè il sistema degli appellativi, la nomenclatura e la cui concreta esperienza ritroviamo invece presso gli hawaiani, come dicevamo. Quindi abbiamo finora assistito ad una evoluzione interna al matrimonio di gruppo in cui il tratto decisivo è il restringimento del campo delle possibili unioni tra consanguinei. Teoricamente la linea di partenza, ove si eccettui la completa assenza di regole solo supposta o immaginata, è data dal matrimonio di gruppo in cui sono vietate le unioni tra genitori e figli. In seguito il divieto si allarga a comprendere anche i fratelli ed entriamo nel sistema dei compagni, ovvero di mariti comuni che però non si riconoscono più come fratelli ed è appunto questo, il sistema Punalua. Ora il nostro percorso continuerà con l'arrivo del matrimonio di coppia. Diciamo subito che questa fase di sviluppo dei sistemi di parentela, così come viene ricostruita da Engels, non è corrispondente alla monogamia a stricto senso. Diciamo che la fase della famiglia di coppia è una fase intermedia tra il sistema dei matrimoni di gruppo, quindi il sistema Punalua, e la monogamia a stricto senso. E' però dopo ricordare a questo punto, ed è questo il tratto essenziale del testo di Engels, che tali istituzioni familiari si accompagnano a precisi modelli produttivi e che i sistema di parentela fondati sul matrimonio di gruppo, compreso il matrimonio, la famiglia di coppia che adesso andremo a illustrare, prevedono una forma di organizzazione economica comunitaria, proprio perché i figli restano in comune. Veniamo quindi alla famiglia di coppia. Come si giunge a questo tipo di istituzione familiare? Semplicemente con le complicazioni che porta con sé lo sviluppo del sistema Punalua, ossia di quella forma particolare di matrimonio di gruppo che prevede, oltre all'esclusione della cerchia dei potenziali coniugi di padri e figli, anche di quella di fratelli e sorelle. Quanto più la Gens viene sviluppandosi come forma istituzionale, quindi quanto più divenivano numerose le classi di fratelli e di sorelle ormai interdette, tanto più si restringevano le possibilità di matrimonio, il che portò col tempo all'impossibilità del matrimonio di gruppo con la conseguente affermazione della famiglia di coppia. In questa esclusione crescente dei consanguinei dal legame matrimoniale opera il principio della selezione naturale. Engels su questo punto riporta le parole di Morgan. Vediamo cosa intendono qui per selezione naturale, i due. I matrimoni tra Gentes non consanguinei davano alla luce una razza più forte, sia fisicamente che intellettualmente. Due tribù si fondevano e i nuovi crani e cervelli crescevano naturalmente fino a comprendere le capacità di ambedue le tribù. Quindi questa è la nozione di selezione naturale. Fino a questo punto le istituzioni familiari subiscono un cambiamento progressivo che non è dovuto a fattori esogeni alle istituzioni familiari stesse. Questo punto è da ricordare perché sarà poi quello di rimente per l'arrivo della monogamia in senso stretto. Nella storia primitiva lo sviluppo della famiglia consiste dunque nell'incessante assottigliarsi della cerchia che originariamente abbracciava l'intera tribù all'interno della quale è possibile sposarsi. Con l'ininterrotta esclusione da prima dei parenti più stretti poi di quelli più lontani si giunge al punto in cui diviene impossibile ogni forma di matrimonio di gruppo e infine resta la coppia singola. Da ciò appare chiaro quanto poco centri l'amore sessuale individuale nel senso odierno del termine con il sorgere della monogamia. Ora questa iniziale e balbettante famiglia di coppia non scioglie come accennavamo poco fa i propri vincoli con il tipo di amministrazione domestica comunista del periodo precedente. Amministrazione domestica di tipo comunista significa dominio della donna nella casa a causa della impossibilità di riconoscere con certezza il padre. Qui Engels fa notare come una certa tradizione di derivazione illuminista ovvero del periodo in cui si cominciano a configurare le teorie degli stati ossia delle fasi di sviluppo dell'umanità abbia ritenuto assurdamente che la donna fosse schiava dell'uomo nelle organizzazioni sociali primitive. Al contrario, afferma Engels, la donna gode presso tutti i selvaggi e i barbari dello stadio inferiore e intermedio e parzialmente anche in quello superiore di una posizione non solo libera ma anche altamente prestigiosa. Leggiamo a questo proposito le parole di Arthur Wright riportate nel testo di Engels missionario presso gli irochesi Seneca. Dice Arthur Wright quanto alle loro famiglie al tempo in cui essi abitavano ancora le antiche case lunghe amministrazioni domestiche di tipo comunista di più famiglie sempre vi predominava un clan ovvero una Gens sicché le donne prendevano i loro mariti dagli altri clan ossia dalle altre Gentes. Ordinariamente la parte femminile governava la casa le provviste erano in comune ma guai a quel marito o amante sventurato che fosse troppo pigro o inetto nel contribuire per la sua parte alla riserva comune era indifferente quanti figli o quanto possesso personale egli avesse nella casa in ogni momento poteva aspettarsi l'ordine di far fagotto e andarsene ed egli non poteva tentare di opporsi a questo ordine la vita gli veniva resa insopportabile non gli restava altro che ritornare al suo proprio clan ossia alla sua Gens o anche come avveniva nella maggioranza dei casi andare a cercarsi con cura un nuovo matrimonio in un altro clan le donne erano la massima autorità nei clan come del resto dappertutto all'occorrenza esse non avevano esitazioni a deporre un capo e degradarlo a guerriero comune è dunque secondo Engels un altro merito di Bakofen quello di aver scoperto la base del potere materiale delle donne di averla spiegata e di aver dunque potuto smentire quelle che erano le ricostruzioni settecentesche la famiglia di coppia nacque quindi ai confini tra stato selvaggio e barbarie in modo particolare nello stato superiore dello stato selvaggio la famiglia di coppia è la caratteristica forma familiare della barbarie come il matrimonio di gruppo lo è dello stato selvaggio e la monogamia della civiltà si faccia ora attenzione al seguente passaggio chiave di volta per comprendere la razio delle argomentazioni di Engels questa forma di famiglia di coppia è il risultato di quella selezione naturale che l'autore riprende dal Morgan ma a questo punto essa cessa la sua funzione ossia la selezione naturale porta al restringimento crescente delle chance matrimoniali inibendo gruppi di parenti sempre più vasti dà la possibilità di unirsi carnalmente ma per il passaggio alla monogamia come la conosciamo noi caratteristica della società borghese occorrevano altri passaggi occorreva l'azione di forze motrici sociali come dice l'autore ossia ragioni che non appartenevano più al naturale e autonomo sviluppo di queste istituzioni ma a ragioni di ordine storico e più precisamente economico è a questo punto che per ricostruire le ragioni della transizione della famiglia di coppia ovvero l'ultima fase di quella cosiddetta selezione naturale ancora imbricata in comunità di tipo comunista e con la preponderante posizione della donna alla salda famiglia monogamica quindi per illustrare questa transizione dobbiamo abbandonare l'America e spostarci nel vecchio mondo qui l'allevamento aveva sviluppato una fonte di ricchezza fino ad allora impensabile e aveva creato dunque condizioni sociali del tutto nuove fino allo stadio inferiore della barbarie la ricchezza era consistita quasi soltanto nella casa nei vestiti e negli strumenti per procacciarsi e preparare il cibo canoe, armi, suppellettili domestiche ora con le loro mandrie di cavalli, cammelli, asini, buoi, pecore, capri e maiali i popoli dall'India al Medio Oriente avevano acquisito un possesso che garantiva i più ricchi tra gli alimenti sebbene come sappiamo oggi più costosi cioè il latte e la carne Engels si domanda a chi apparteneva questa nuova ricchezza? Originariamente senza dubbio alle Gentes ma per un processo storico preciso presto questa ricchezza doveva privatizzarsi e con ciò stesso rendere necessaria l'istituzione di una rigida famiglia monogamica come condizione della trasmissibilità di questa stessa ricchezza e in tale periodo infatti viene anche inventata la schiavitù ed è facile capire il perché a questo proposito invito per chi fosse interessato ad ascoltare la serie di video dedicata a Marvin Harris del testo Cannibali e Re su questo canale laddove il cibo si procaccia giorno per giorno ovvero nelle condizioni del periodo selvaggio e di parte di quello barbaro lo schiavo non ha alcun valore dice Engels la forza lavoro umana non produce ancora in questo stadio alcuna eccedenza degna di rilievo rispetto ai suoi costi di mantenimento una volta introdotti l'allevamento del bestiame la lavorazione dei metalli, la tessitura e infine l'agricoltura le condizioni si modificano così come le spose in precedenza così facili da ottenersi avevano ora acquistato un valore di scambio e venivano comprate lo stesso avvenne con le forze lavorative specialmente da quando gli armenti erano passati definitivamente alla proprietà familiare la famiglia non si moltiplica con la stessa rapidità del bestiame più persone si rendono quindi necessarie alla sua sorveglianza con il che si capisce perché il prigioniero di guerra può ora servire come schiavo tali ricchezze finirono per far crollare il sistema basato sul matrimonio di coppia e sull'agenza di diritto matriarcale vediamo ora tecnicamente le ragioni il matrimonio di coppia ossia l'evoluzione naturale delle relazioni coniugali punalua aveva introdotto una sola vera novità rispetto ai sistemi precedenti vale a dire il padre carnale ora si sapeva con sicurezza sia chi fosse la madre sia chi fosse il padre del nascituro ora in tale situazione il marito padre era colui che doveva procacciare il sostentamento per la famiglia per tale ragione egli era proprietario dei mezzi utilizzati a tale fine in caso di separazione infatti il marito portava via tali strumenti mentre la moglie manteneva le suppellettili della casa quando arrivarono queste nuove ricchezze di conseguenza esse restarono dunque di proprietà del marito il quale però non poteva trasmetterle ai propri figli se si è seguito fino a qui questa serie di video se ne potrà dedurre facilmente il perché l'eredità veniva stabilita in linea gentilizia ossia era l'agenza di appartenenza che riceveva i lasciti del padre ora poiché la discendenza si stabileva in forma matrilineare i figli dell'uomo non appartenevano all'agenza del padre ma a quella della madre quindi il cambiamento del modo di produzione e il conseguente accrescimento di ricchezza determinò da un lato la cresciuta importanza dell'uomo all'interno del matrimonio dovuta al possesso degli armenti e degli schiavi e dall'altro di conseguenza la spinta necessaria a rovesciare l'ordine tradizionale fondato sul matriarcato il rovesciamento del matriarcato segnò la sconfitta storica del genere femminile l'uomo prese in mano anche il comando della casa la prima conseguenza di questa estensione di potere agli uomini si mostra in una prima forma di famiglia patriarcale consistita, citiamo il Morgan di Ancient Society dall'organizzazione di un certo numero di persone libere e non libere in una famiglia sotto la patria potestas del capofamiglia nella forma semitica, continua Morgan tale capofamiglia vive in poligamia i servi hanno mogli e figli e lo scopo di tutta l'organizzazione è la custodia degli armenti all'interno di una zona circoscritta chiudiamo qui la citazione dal Morgan questa forma familiare patriarcale raggiunge poi una sua tipicità nella famiglia romana la parola famiglia presso i romani non si riferisce alla coppia di coniugi e alla loro prole ma unicamente agli schiavi famulus significa schiavo domestico e famiglia è l'insieme degli schiavi che appartengono a un uomo l'espressione indica quindi un nuovo organismo sociale il cui capo aveva sotto di sé moglie, figli e una certa quantità di schiavi a questo punto Engels ricorda il suo compagno di percorsi intellettuali di studi e di lotte cioè Marx che a questo proposito aveva sostenuto la famiglia moderna contiene in embrione non solo la schiavitù ma anche la servitù della gleba poiché essa è fin da principio in rapporto coi servizi agricoli conclude poi che tale istituzione, la famiglia contiene in sé in embrione tutti i futuri antagonismi di classe così passiamo dal matrimonio di coppia alla monogamia per assicurarsi la fedeltà della donna e con questa la paternità dei figli l'uomo assume un potere incondizionato su di essa veniamo dunque alla famiglia monogamica leggiamo ora direttamente l'inizio del paragrafo dedicato da Engels nel suo testo l'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato alla famiglia monogamica come abbiamo già mostrato essa sorge dalla famiglia di coppia nell'epoca che divide lo stadio intermedio e lo stadio superiore della barbarie la sua vittoria definitiva è uno dei segni distintivi della vittoria definitiva della civiltà essa si fonda sul dominio dell'uomo con lo scopo manifesto di generare figli di paternità indiscussa paternità richiesta in quanto questi figli possano in qualità di eredi naturali entrare in possesso del patrimonio paterno essa si distingue dal matrimonio di coppia grazie alla ben maggiore solidità del vincolo coniugale ormai non più solubile a piacere da ambe due le parti di regola adesso solo l'uomo può ancora scioglierlo e ripudiare la moglie il diritto all'infedeltà coniugale gli rimane tuttora garantito perlomeno dal costume il codice civile di Napoleone lo attribuisce espressamente all'uomo fin tanto che egli non porti la propria amante nel domicilio coniugale e viene sempre più esercitato col crescere dello sviluppo sociale se alla moglie torna in mente l'antica pratica sessuale ed ella vuole restaurarla viene punita più severamente che non prima la nuova forma familiare ci si presenta in tutta la sua severità tra i greci mentre come osserva Marx il posto delle idee nella mitologia ci riporta ad un periodo precedente in cui le donne avevano ancora una posizione di maggiore libertà e rispetto nell'epoca eroica vediamo la donna già avvilita dal predominio dell'uomo e dalla concorrenza delle schiave si legga nell'Odissea in quale maniera Telemaco richiami la madre al silenzio in Omero le giovani donne fatte prigioniere sottostanno alle voglie sessuali dei vincitori i comandanti si scelgono secondo il rango e l'ordine gerarchico le più belle l'intera Iliade come si sa verte intorno alla lite tra Achille ed Agamennone dovuta ad una tale schiava per ogni personaggio omerico di rilievo viene menzionata la ragazza fatta prigioniera con cui egli divide tenda e letto queste ragazze vengono anche portate con sé in patria e nella casa coniugale come Ineschilo o Cassandra da Agamennone i figli maschi generati con tali schiave ricevono una piccola porzione dell'eredità paterna e vengono considerati uomini pienamente liberi Teucro è un tale figlio naturale di Telamone e può prendere il nome del padre dalla moglie si pretende che sopporti tutto ma che essa stessa osservi rigidamente la castità e fedeltà coniugale la donna greca dell'epoca eroica gode bensì di maggior rispetto di quella del periodo della civiltà ma essa è in definitiva per l'uomo solo la madre dei suoi eredi legittimi la suprema amministratrice della casa e la sovrintendente di quelle schiave che egli può trasformare a piacere in concubine come del resto fa sono l'esistenza della schiavitù a fianco della monogamia la presenza di giovani belle schiave che sono proprietà dell'uomo con tutto quello che hanno ad imprimere alla monogamia fin dall'inizio il suo carattere specifico di essere cioè monogamia solo per la donna ma non per l'uomo e questo carattere essa lo conserva ancora oggi bene dopo questa lunga lettura torniamo all'argomento della famiglia monogamica dopo aver esemplificato tale tipo di famiglia patriarcale questa volta in Grecia ove le condizioni cioè nella Grecia classica del V secolo ove le condizioni delle donne ateniesi ad esempio erano di totale marginazione della vita pubblica Engels ribadisce con forza che l'origine della monogamia non fu assolutamente il prodotto dell'amore sessuale individuale fu invece la prima forma familiare a non essere basata su condizioni naturali ma economiche ossia sulla vittoria della proprietà privata sulla originaria proprietà comune naturale il dominio dell'uomo sulla famiglia e la possibilità di trasmettere i beni alla propria discendenza furono i soli e unici motivi della monogamia rappresentati con franchezza dai greci la monogamia appare dunque come asservimento di un sesso da parte dell'altro nel 1846 Marx ed Engels scrivevano la prima divisione del lavoro è quella tra uomo e donna per la procreazione dei figli ora la monogamia porta con sé due conseguenze evidenti da una parte l'eterismo ovvero la pratica maschile del sesso fuori dal matrimonio con il correlativo sviluppo della pratica della prostituzione e dall'altra l'adulterio in questo caso ci si riferisce naturalmente alla donna queste pratiche sono secondo Engels il retaggio dell'antico matrimonio di gruppo la monogamia costringe all'interno di un certo rapporto e queste pratiche mostrano chiaramente come questa forma familiare non sia il prodotto di una superiore consapevolezza sentimentale degli individui e dunque non sia l'espressione di una scelta di libertà quanto le pratiche dell'eterismo e dell'adulterio fossero avvertite lo si deduce dall'articolo 312 del già citato codice civile di Napoleone dove si decretava il bambino concepito durante il matrimonio ha per padre il marito ma alla luce di queste posizioni si può ancora parlare di amore pulito, sessuale di un matrimonio nella famiglia monogamica fondato sull'amore per Engels sì, questo tipo di matrimonio autentico lo si può trovare nella classe operaia ed è facile capire perché non avendo una proprietà da trasmettere l'operaio perderà il peso e l'autorità che il maschio burghese possiede sulla propria donna all'interno di questo sistema naturalmente ora, così come la classe operaia rappresenta in fondo una modalità alternativa della famiglia monogamica nel contesto borghese essa è naturalmente anche il soggetto rivoluzionario per eccellenza e per le stesse ragioni dal momento che la monogamia non è che il necessario adeguamento delle relazioni matrimoniali ai nuovi modi della produzione privatistico borghese allora un cambiamento in questi modi ossia una risocializzazione dei mezzi di produzione condurrà inevitabilmente alla fine di questo particolare modello familiare chiudiamo allora questa nostra serie di video sull'origine della famiglia della proprietà privata e dello stato di Engels con le parole dello stesso autore e ci salutiamo qui ci stiamo ora dirigendo verso un rivolgimento sociale in cui i fondamenti economici della monogamia così come sono esistiti finora andranno incontro ad una scomparsa altrettanto sicura di quelli della prostituzione che ne è il complemento la monogamia nasce dalla concentrazione di più ricchezze in una mano sola e precisamente quella di un uomo e dal bisogno di trasmettere in eredità tali ricchezze ai figli di questo uomo e a nessun altro per ottenere questo era necessaria la monogamia della donna non dell'uomo sicché questa monogamia della donna non era affatto d'ostacolo alla poligamia scoperta o mascherata dell'uomo l'imminente rivolgimento sociale ridurrà però ai minimi termini tutta questa preoccupazione per la trasmissione ereditaria con la trasformazione in proprietà sociale perlomeno della parte infinitamente maggiore delle ricchezze durature trasmissibili dal momento che la monogamia è nata da motivi economici scomparirà quando questi scompariranno